Ciao, ciao a tutti ragazzi, siamo due membri degli Elio e le Storie Tese, Elio e le Storie Tese, io sono Elio, lui è? Io sono Faso. Venite a vederci dal vivo al festival della partecipazione dell'Aquila il giorno 8 luglio, non potete mancare, c'è anche l'hashtag. Guardate, cancellettino io partecipo, è l'hashtag questo? Questo? Ma non vedi che c'è scritto l'hashtag, altro che cancellettino? Io avevo visto cancellettino, ma l'hashtag non è una certa serie, il colpo d'hashtag?